ciao ciao a tutti bentornati nel mio canale oggi tutorial in collaborazione con il sito bid park andremo a realizzare un paio di orecchini a perno a forma di fiorellino questo è lo stampo che andrò ad utilizzare scelto appunto dal sito di bid park e questo è il codice ovviamente andrò ad utilizzare anche glitter foglia oro altri glitterini scelti sempre appunto dal sito di bid park e questi sono i codici ovviamente tutti i codici dei vari prodotti vi lascio ovviamente anche in descrizione insieme al codice sconto che è questo qui sempre se lo metto a fuoco che è gd3 off 01 per il 3 per cento di sconto sul sito di bid park la resina andrò ad utilizzare una resina uv e quindi iniziamo questo è lo stampo molto molto carino e andiamo a creare appunto con questo con questo stampino qui iscriviti al canale Grazie a tutti. Ed eccoli qua. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.